Migliora lentamente la situazione meteo a partire dalle zone occidentali. Dal Trentino Alto Adige al Vicentino, passando per Verona, la perturbazione continua però a portare neve e pioggia, ma il livello dei fiumi è ormai sotto controllo grazie soprattutto al fatto che sono stati resi operativi tutti i bacini di laminazione e le casse di espansione idraulica, mentre tutta la rete dei canali minori era stata tenuta sgombra proprio in previsione di queste precipitazioni eccezionali. Ecco come si presenta il fiume Adige in centro città a Verona dove la pioggia è caduta abbondante ma non si segnalano situazioni di emergenza. Sotto controllo anche il Brenta e il Bacchiglione. A Torri di Quartesolo, dopo l'esondazione del fiume Tesina, terminati gli interventi dei vigili del fuoco, è toccato agli abitanti rimboccarsi le maniche e ripulire appartamenti e cantine dal fango e dalla melma. Ma la gestione di questa emergenza è stata tutt'altro che facile. Il maltempo non ha dato tregua nemmeno durante la notte. Precipitazioni che in alcuni casi hanno superato i livelli dell'alluvione del 66, in particolare su tutto il Bellunese e sull'altopiano di Asiago e sulla Pedemontana Vicentina. A Seren del Grappa l'idrometro ha registrato l'eccezionale dato di 600 mm di pioggia caduta. Una fortuna il fatto che nel giorno dell'Immacolata le temperature si siano abbassate trasformando in neve le piogge torrenziali che altrimenti avrebbero di certo mandato in tilt tutto il sistema idraulico. Di fatto la pianura si è salvata così ma la montagna è entrata in piena emergenza con precipitazioni nevose che hanno raggiunto i due metri in tutto il comprensorio. Allerta rosso anche in Trentino Alto Adige. Su tutte le montagne alberi caduti, frane e interruzioni di elettricità stanno continuando a causare seri problemi. Da Piancavallo alla Val di Zoldo che è rimasta isolata questa mattina per ore per una frana sulla statale 251 e poi una valanga caduta su passo Staulanza che era rimasta l'unica strada di accesso alla valle. Treni interrotti al Brennero per una frana sud di Bolzano e continua a nevicare sopra i mille metri. Da giovedì mattina è atteso un progressivo miglioramento almeno fino a sabato quando arriva una nuova debole perturbazione. Potrebbe essere l'ultima tregua prima di una cavalcata di pioggia e neve che continuerà da metà settimana fino a Natale che sarà quindi probabilmente ricordato non solo per l'emergenza Covid ma anche per quella legata al maltempo.